Questa proposta di legge che noi oggi stiamo esaminando invece per quanto ci riguarda contraddice proprio a questi principi cardine perché troviamo in moltissime delle sue parti, dei suoi articoli, una sorta di indeterminatezza negli inderizzi e negli obiettivi che di per sé la configurano come una vera e propria sorta di delega in bianco nei confronti dell'esecutivo.